Estate di 20 e di iniziative dedicate ai più giovani in alta a Valsassina, strizzando sempre l'occhio al turismo. Negli scorsi giorni le amministrazioni comunali di Crandola, capofila del progetto Magno e Taceno, in collaborazione con Rete di Imprese e Montagne del Lago di Como, hanno presentato il calendario delle 20 dell'estate. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, dichiara Giulio Giumelli, assessore al turismo del Comune di Crandola, e nonostante le quotidiane difficoltà finanziarie che toccano i piccoli comuni, abbiamo deciso di riprovarci. Vogliamo migliorare ed incrementare l'offerta turistica del nostro territorio, mettendo a sistema le manifestazioni estive in programma. Il Sindaco del Comune di Crandola, Matteo Manzoni, ha ringraziato per questo le proloco del territorio, che svolgono un'importante funzione, organizzando eventi che diversamente non avrebbero luogo. Grazie a questa collaborazione fra comuni, saranno finanziate e organizzate 12 manifestazioni, dalle serate di cinema all'aperto, alle iniziative per le famiglie, alla musica e alla cultura. Il primo evento è in programma giovedì 5 luglio, presso il campetto di Crandola, una serata di sensibilizzazione sulla donazione, in collaborazione con l'Aido. Secondo appuntamento, sabato 7 luglio, a Crandola, dove un cantastorie racconterà favole ai più piccoli. Fra le altre iniziative in programma, un doposcuola riservato ai bambini, il progetto Living Land, che vede la partecipazione di sei ragazzi del posto, in programma a partire dal 2 luglio. L'elenco degli appuntamenti è stato pubblicato su un pieglievole e sarà diffuso negli esercizi commerciali, oltre che sulla pagina Facebook Alta Valsassina Eventi.